ma io me lo ricordo un po' diverso se ne chiede no? no, è lui, la faccia è quella ciao ciao, mi vanno molto diverso ma chi sono tutti questi qua che mi vanno le volte? ma che cazzo sta avanti? si può abbassottire? come la guarda? no noi siamo arrivati da un po' c'è un po' ma non è rimbo va buono, ok va buono, c'è salito io ho paura di cosa? di toccarlo effettivamente non è questa sarà simpatico quando un giorno troveremo una lezione è molto simpatico non ti l'hai mangiato il biscottino? è un po' bene eh è carino che la tammetta ehi è un po' bene è un po' bene è un po' bene No, 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 no